La ripartenza nelle Marche di diverse attività commerciali per il 18 maggio diventa sempre di più una realtà concreta. La Giunta Ceriscioli ha messo a punto in collaborazione con le associazioni di categoria e lanci i protocolli di sicurezza sanitaria, tanto attesi dal settore commercio per poter uscire dal congelatore, dove è stato omesso da oltre 50 giorni. Manca solo l'ok del governo, ma le Marche, assieme a Emilia Romagna e Abruzzo, sono le prime a presentare un protocollo per la riapertura. Estetisti e parrucchieri sono già pronti dopo che il test di venerdì scorso ha dato buon esito alla presenza del governatore e delle autorità sanitarie regionali. Per il settore invece legato al turismo, la stagione balneare prenderà il via il 29 maggio e con il volto nuovo ed insolito anche che le spiagge prenderanno a seguito delle disposizioni adottate. Gli ombrelloni saranno posizionati uno ogni 10 metri quadrati e potranno essere occupati solo da componenti dello stesso nucleo familiare. O meglio, si potrà prendere l'ombrellone con gli amici, ma non se ne potrà usufruire contemporaneamente ed il bagnino dovrà sanificare ogni volta sotto l'ombrellone arriva una persona non facente parte della stessa famiglia di quello che lo aveva appena lasciato. La distanza minima poi tra un lettino e un altro dovrà essere di due metri, idem anche per i lettini affittati giornalmente. Sport a coppie o a squadre scordiamoceli, almeno per il momento, con la regione Marche che però si riserva di modificare il protocollo qualora arrivassero diverse indicazioni dal governo e dà la possibilità ai bagnini di mettere a dimora ulteriori ombrelloni nelle aree sportive. Niente allargamento alle spiagge libere, quindi che rimarranno libere e dove varranno gli stessi criteri. Lettini e asciugamani, sempre a due metri di distanza e l'ombrellone piantato a quattro metri dall'altro. La polizia locale avrà poi l'autorità per far rispettare le regole e vicilare sulla loro osservanza. Regolamentati anche gli accessi alle piscine, sia nei camping che nei bagni, per ogni 10 metri quadrati e mezzo di superficie della piscina quattro persone in acqua e lettini a bordo vasca sempre a due metri. Inoltre per i camping, dove il nodo sicurezza e soprattutto legato quello ai servizi igienici, è stato uno dei punti chiave e si è deciso di sanificare due volte al giorno e di igienizzare più volte. Ma l'estate non è solo spiaggia. I protocolli, già condivisi con l'INAIL, per dare garanzie ai marchigiani e ai turisti di trascorrere le vacanze in sicurezza, riguardano anche altri settori. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, bed and breakfast e agriturismi, è obbligatoria la sanificazione completa della stanza ad ogni cambio cliente, mentre l'igienizzazione deve essere giornaliera. Per evitare assembramenti, le strutture dovranno adeguarsi con segnaletica che indichi percorsi e avvisi alla clientela, che dovranno abbandonare la modalità buffet al ristorante e dove potranno essere serviti solo pietanze già impiettate. Capitolo ristoranti. Fatto salve tutte le osservazioni individuali già stabilite in precedenti protocolli, i ristoranti che riapriranno il 18 di maggio potranno accettare solo clienti che hanno effettuato prenotazione telefonica, clienti che a loro volta dovranno precisare se sono o meno della stessa famiglia. Questo per permettere al ristoratore di apparecchiare secondo le nuove regole, ovvero familiari o conviventi niente pannello in plexiglass, amici barriera in plexiglass o seduti ad un metro l'uno dall'altro. Sempre oggi è stato annunciato che si sta lavorando alla riapertura dei centri estivi e alla riattivazione di quei servizi di tipo sociale come i centri diurni, con i quali c'è stata una forte collaborazione tra comuni, molti dei quali hanno già inviato un calendario delle varie riaperture alla regione.